Ben tornati a Balcony TV Trieste. Oggi siamo in compagnia di Bob Korn che ci suoneranno Buddy comes. Come to close my bag, I have to catch on the train. Time to eat my breakfast, I have to feed my soul. And since you've gone, nobody come. So I look for you in everyone. Time to say goodbye, then again, hello. Time to leave my season, I want my spring every day. So I look for you in everyone. Every day in everyone. As I lie to stay, the same I like to go. I love my village inside. I love the foreign taste. And every day in everyone. All I want is you to come. It's a long time. I'm waiting, there's an old rodding from. Time to rest my thought. Time to thank my world. And all I want is you to come. And all I want is you to come. But nothing changed. I'm still alone. So I look for you in everyone. But since you've gone, nobody comes. Thank you, Tizio. Thank you, Marco. Siamo veramente onorati di averti qui. Sono particolarmente contento perché tu arrivi qui alla fine di un tour che hai fatto nel Balcane che ti ha portato un po' in giro. Il motivo per cui hai suonato anche questa canzone ha un suo significato. Puoi raccontarci un po' come è data questa esperienza? Ah, l'esperienza in generale. È la prima volta che andavo là, perciò è stata una cosa proprio per me abbastanza particolare tutto. Però ho un ricordo proprio, penso, potrei proprio definire indelebile, cioè penso che questa non me la dimenticherò mai. Dopo una cosa molto bella che ho suonato per dei bambini in una scuola in un paesino piccolino della Herzegovina che si chiama Ljubnie, Ljubnie, qualcosa così. Dopo tre pezzi, fatti alla mattina a mezzogiorno, avrò firmato più o meno 100 autografi a questi bambini dai 6 ai 12-13 anni. E quando mi sono assicurato che li avevo firmati tutti e che erano tutti contenti, arriva questo ragazzino, Luca, così, con una faccia molto bella e con questo inglese meglio del mio mi dice e... Listen, wow, nobody comes here, that's why it happens. E ok, questi in un certo modo posso dire questi sono i Balcani, la gente è molto consapevole di chi sono anche a 13 anni. Consapevolezza? Sì, 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 ecco. Bellissimo. Senti, a fine mese, a fine maggio ci sarà il Musica delle Valle, che ormai, che edizione è arrivata? Ormai sono anni e anni che l'organizziamo. Deve essere 18 in 21 anni, 22 anni, adesso bene non mi ricordo, comunque edizione 18 deve essere questa. Come sta andando l'organizzazione? Eh, mi devo dire che mi sono abbastanza arenato, fino a febbraio, cioè adesso siamo a metà aprile, fino a febbraio ero convinto di chiudere tutto nel giro di una settimana e non ho ancora chiuso. Però penso che nella prossima chiuderò tutto. No, ho avuto un po' di impegni, l'impianto è fatto, devo solo sistemare i giorni e ancora un gruppo due. Ottimo. Invece per le prossime produzioni Bob Korn cosa possiamo aspettarci, visto che l'ultimo disco risale ad anni fa? Sì, non lo so, in senso che ho, cioè adesso ho un paio di canzoni nuove, ma dopo il periodo che ho avuto, insomma, poste remoto e così, cioè, perso la casa e tutto, cioè, mi sono molto arenato dal punto di vista compositivo e tutto. Adesso ne ho, diciamo, ne ho qualcuna nuova. Ce ne sono alcune che non, credo che non siano Bob Korn, ma ce n'è una che invece è proprio Bob Korn e ho quasi, cioè, ho come l'impressione che ne farò un sette pollici solo con lei. Perché da un tanto che non faccio canzoni, ho sempre chiuso i dischi a un certo punto, cioè, non stando tanto a pensare quante canzoni c'erano nel disco, credo che a questo punto, cioè, questa basti. Questa volta ne basta uno, cioè, chissà, farò un sette pollici con un disegno dall'altra parte, qualcosa del genere, ho un po' sti via. In bocca al lupo, grazie tizio, è veramente un piacere. Grazie a voi e a tutti. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo che adesso si dice così. Viva il lupo. Marco Valva, Damiano Tomasi, Le Riprese, Balconi TV Trieste, video appuntamento alla prossima puntata.